costa che ci fai qua cosa ci fai qua passavo ci siamo visti per caso facciamoci una bella chiacchierata che dici ce n'è da dire allora io devo dire non ho più l'età per stare sveglio fino alle 4 e mezza di mattina non lo faccio neanche per l'NBA immaginati se lo faccio per Trump e Harris però stamattina facendo colazione mi sono gustato un po' di chicche devo dire che è interessante io non ho mai avuto l'età se è per questo non è vero io so che tu eri un rock'n'rollista di prima categoria che si svegliava la notte andava ai concerti fino a che l'anima rispuntava ho fatto delle cose che non posso neanche raccontare perché ho ancora un briciolo di reputazione però si le ho fatte però svegliarmi alle 3 di mattina per ascoltare Kamala e Trump beh francamente no fosse stato l'America's Cup che per fortuna quest'anno si si gareggia in Europa ecco tre anni fa lo feci tre anni fa mi svegliavo regolarmente di notte alle 4 del mattino per seguire l'America's Cup per 20 minuti poi si addormentavi mi addormentavo perché ho questa grande fortuna di riaddormentarmi con uno schiocco delle dita bene dai allora oggi ci facciamo questa chiacchierata su Kamala e Trump perché ci sono delle cose da dire prima però di farlo vorrei anche raccontare un po' di questa piccola novità alle persone che stanno seguendo questa trasmissione allora io e Costa che ci vogliamo molto bene ci siamo detti ma perché non ci facciamo una chiacchierata ogni tanto e allora è venuta fuori questa idea di farci questa cogitata che però sarà periodica adesso non sappiamo quanto periodica potrebbe essere una volta in due settimane poi vedremo insomma come si evolverà però ecco mi sembrava interessante perché le chiacchierate fatte con te sono state molto molto interessanti e allora proviamoci anche perché poi soprattutto varie Rick abbiamo parlato delle cose più incredibili dal sacro al profano esatto 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 e quello di oggi è sacro oppure profano? profano no è profano decisamente profano senza nessun dubbio allora senti qua io sono stato a pranzo da mia madre mia madre è una meravigliosa signora di 76 anni e lei mi ha detto appena sono entrato hai visto Kamala mamma mia non la sopporto Kamala e io ho detto sì non è che dall'altra parte ci fosse proprio del gran del gran Marnier però dice beh ma piuttosto di Kamala e io ho detto fermali fermali non dire altro allora senti Costa tu saresti d'accordo con mia mamma dire no ma è piuttosto di Kamala anche Trump no guarda allora sì la domanda la domanda è lecita assolutamente opportuna allora io ho fatto questo ragionamento ma non ieri non stanotte non stamattina di fronte ad un presidente americano che fa cattive politiche economiche per esempio il piano che ha presentato Kamala secondo me è pessimo e un altro possibile presidente americano che fa cattive politiche internazionali cattive scelte di politica internazionale o addirittura mette a rischio poi magari non lo farà però diciamo che mette a rischio l'architettura della democrazia interna guarda quello che ha fatto Capitol Hill quello che che in questi giorni in queste settimane ha esternato a proposito della sua ammirazione per i dittatori che hanno la possibilità di fare quello che in democrazia non è consentito ecco di fronte a queste due prospettive entrambe negative io mi tengo le politiche economiche cattive perché dalle politiche economiche cattive si sopravvive dalla dall'attacco alla democrazia magari si sopravvive però un pochino più difficile un pochino più dura quindi se fossi americano farei la stessa scelta che per esempio ha fatto è annunciato pubblicamente Dick Cheney repubblicano ma stavolta canola assolutamente assolutamente sai la cosa che mi sembra che a molti sfuga io ho letto anche un po' di commentatori italici dopo questo dibattito è che in realtà Trump sarebbe un disastro per esempio per l'economia italiana per il nostro export perché se Trump fa veramente quello che ha promesso e io credo che a questo punto lui voglia veramente fare le cose che sta promettendo perché si rende conto che tanto ormai tenersi indietro non gli giova più niente visto che l'estremismo è ciò che gli si confa più da vicino in realtà l'export italiano che per gli Stati Uniti è un bel peso per la nostra economia subirebbe un colpo devastante perché il ritorno a quei dazzi che lui ha annunciato ci costerebbe una montagna di miliardi di euro a questo aggiungendo il fatto che poi se come era anni fa e come in parte ha fatto lui vuole fare la politica di shrinking americano anche dal punto di vista della presenza internazionale beh sarebbe un disastro anche per gli equilibri europei perché insomma sappiamo bene che Trump nei confronti dell'Ucraina ha una politica che diciamo è poco desiderabile aggiungo che la mossa del giaguaro mi verbe da dire della campagna di Trump è avvenuta con l'endorsement di Kennedy che il figlio di Robert Kennedy che non sta troppo bene però lui ha un seguito importante se voi sentite i discorsi di Kennedy lui è proprio uno che dice basta armi all'Ucraina ma proprio zero cioè e questo endorsement è stato molto dovrebbe essere un campanello d'allarme per tutte le persone che tengono comunque agli equilibri europei perché significa che se Trump sale al potere e questa volta ci salirebbe di nuovo senza nessun tipo di prudenza o remora perché è molto chiaro questo dopo capitolile e via dicendo non ha più nessun tipo di prudenza se mai ne ha avuta sarebbe veramente un disastro per gli equilibri economici e politici del nostro continente sì c'è c'è Kennedy c'è anche J.D. Vance che non è qualcosa di diverso esiste un'America bisogna prenderne atto a dispetto di quelli che anche qui in Italia non vogliono vederla non vogliono vederla che credono che il partito repubblicano incarni fondamentalmente il partito del mercato il partito della libera circolazione delle merci e così via quel tipo di partito repubblicano da otto anni a questa parte non esiste o se esiste è poco forte c'è figlio dei tempi un altro partito repubblicano che ha abbracciato totalmente integralmente in tutta retorica ma anche in alcuni fatti quella che è l'onda populista di cui magari sarebbe da approfondire cioè le tematiche e anche come vengono portate le tematiche sono quelle tipiche mi verrebbe da dire il populismo storico se è mai esistito un populismo storico sono le stesse e quindi quell'America non c'è più adesso bisogna capire come recuperare quell'America magari liberandosi di qualche difetto che aveva anche quell'America però Trump incarna un'America che è pronta non soltanto a ritirarsi dall'Ucraina non soltanto ad abbandonare l'Unione Europea che è detto fra di noi magari se lo meriterebbe pure così un pochino si sveglia ma anche a proteggere le proprie aziende o dare la sensazione che voglia proteggere le proprie aziende con i Dazi e tu dicevi giustamente i Dazi sarebbero un disastro soprattutto per noi oltre che per i certi demoghi cariche pagherebbero evidentemente di più certe merci però sarebbe un disastro per noi perché noi abbiamo una bilancia commerciale con gli Stati Uniti che è positiva e quindi frenare l'export italiano verso l'America che tradizionalmente è un mercato per noi molto interessante molto appetibile sarebbe un disastro una cosa divertente che sono molti italiani che tifano Trump e che dicono speriamo che venga Trump altrimenti l'economia italiana va male non so che film hanno visto non capisco nulla peraltro mi viene da dire che proprio non c'è nessuna capacità neanche di analizzare il passato e di imparare dal passato la Brexit adesso nessuno guarda i dati della Brexit ma dal punto di vista del commercio internazionale dal punto di vista dei rapporti commerciali tutti i paesi UE e ovviamente UK ne hanno risentito in modo negativo cioè sono tutti negativi parametri di interscambio commercio e le aziende danneggiate da questo sono tantissime ciò che io temo e ovviamente il populismo trampiano è della stessa fattura del populismo di Farage e quindi dei Brexit e via dicendo è un populismo che da un lato come dicevi giustamente strizza l'occhio non a quel mondo neoliberista del mercato dell'open society il contrario a una che io definirei tranquillamente destra sociale sussidiaria e perché poi ricordiamoci che Trump la presidenza Biden si è macchiata di un'enorme spesa pubblica di quell'enorme flusso di denaro che ha creato comunque dei problemi nell'equilibrio economico americano però Trump non era stato da meno a sussidi gli ultimi stato una montagna una montagna le politiche economiche e questo tra l'altro guarda è sintomatico se vedi nel dibattito di ieri notte l'economia è quasi assente viene soltanto accennata l'economia è quasi assente io credo perché Kamala dato che quel piano che ha presentato non voglio spaventare una parte dell'elettorato che è ancora indeciso però le politiche di Trump non sono tanto diverse certo c'è una maggiore enfasi sul taglio delle imposte però alla fine per quanto riguarda il bilancio i risultati adesso non so se seguivano perché ho fatto calcoli non ne vale anche la pena però siamo lì l'economia è la grande assente secondo me di questi mesi di campagna elettorale di quello che ancora poco resta di campagna elettorale poi vedremo le cose magari si faranno day by day quando ci sarà la nuova presidenza il sedimento e così via però sotto il provilo economico nessuna delle due offerte fa stare tranquilli tanto gli americani quanto gli europei assolutamente c'è un altro aspetto che mi fa un po' preoccupare del dibattito sai è successo anche durante il dibattito ormai famigerato fra Trump e Biden quello che ormai è diventato più un meme che non un momento storico della politica internazionale ma in realtà è proprio il modo con cui le diverse parti si affrontano ho fatto un raffronto fra il dibattito fra Obama e McCain Obama e Romney persino il dibattito Trump Hillary Clinton rispetto a adesso questo con Kamala Harris e ormai non c'è nulla a fare siamo di fronte al regime dell'inimicizia e dell'antagonismo totali ed è iniziato da subito cioè la stretta di mano iniziale Kamala è andata con fare aggressivo sapendo che Trump non voleva Trump si è comunque quasi ritirato dalla stretta di mano e poi l'ha data di malavoglia già lì dici ma cosa sta succedendo e e quindi e io credo che questo sia proprio un non si torna più indietro cioè c'è un regime di inimicizia fra due visioni del mondo che ormai non riesce neanche più a immaginare le ragioni dell'altro e questo si riflette nella società americana e non solo perché anche da noi perché si riflette sul fatto che quando le persone discutono di questi argomenti non hanno più neanche la forza neanche il salto mentale di dire ma perché l'altro la pensa in un certo modo parti sempre dal nemicizia parti sempre dalla discordia parti sempre da l'altro mente finge o vuole ingannare manipola e questo è veramente preoccupante perché secondo me questo ancora prima delle politiche economiche dimostra il fatto che la nostra democrazia è veramente in pericolo perché non può reggersi con questa con questo no c'è 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 un dicavimento culturale sociale guarda come regiscono le tifoserie opposte certo c'è una tifoseria che probabilmente più portata a reagire in modo violento e un'altra un po' meno però non tanto meno c'è una demonizzazione dell'avversario non è più la contesa politica entro regole democratiche entro le regole che la democrazia si è data c'è una contesa politica sembra quasi di esistenza dell'altro io cancello se potessi cancellerei volentieri l'altro perché portatore portatrice di sventura e viceversa come possiamo dire ma questo è un fenomeno che avviene un pochino ovunque come ricordavi cioè avviene in Italia avviene in Inghilterra avviene in Francia non ne parliamo proprio in Germania sebbene in Germania soprattutto dopo le ultime elezioni in Turincia e Sassonia direi che è quasi giustificato avviene ovunque ecco secondo me i politologi dovrebbero spiegarci o pensare provare a ragionare nel perché c'è questo questa esplosione di violenza in senso pieno in una contesa politica che è contesa per potere e quindi violenza in senso lato perché lo si vede ovunque lo si vede veramente ovunque i dibattiti di qualche anno fa certo Trump in persona molto bene lo vedi dalla postura dagli sguardi da quell'atteggiamento un po' da bullo incazzato che dice adesso ci vediamo fuori dallo studio e vedi che cosa ti combino e questa cosa questa nuova questa nuova grammatica sicuramente l'ha portata l'ha portata Trump e poi l'ha esasperata devo dire che Trump aveva buon gioco con Biden che non aveva anche per ragioni grafiche e di condizioni di salute più il fisico per sopportare ho visto che Kamala allora io ho letto una grande preparazione come è ovvio che sia la parte di Kamala ma anche adesso dirò una cosa che forse sorprenderà qualcuno l'ho vista anche in difficoltà ovvero forse ai punti ha vinto lei però il bisogno di recitare il copione che le era stato girato e che aveva concordato con il suo staff secondo me le ha donato anche in certezza poi è anche vero che era il primo duello il primo debate che faceva e dall'altra parte non aveva un osso facile Trump è uno che accolso di dire cazzate e le dice continuamente perché poi gli vengono continuamente perdonate dalla sua clac può rispondere quasi istintivamente Kamala aveva le risposte in testa e cercava di recuperare nella mente qual era la risposta per questo l'ho visto meno spontanea anche in certi passaggi meno efficace se non vivessimo il momento storico che stiamo vivendo in cui le cazzate vengono perdonate la storia dei gatti verrà perdonata infatti già la clac e i tifosi di Trump l'hanno già perdonata la questione il non aver risposto sull'Ucraina insomma se vivessimo tempi normali farei un discorso diverso cioè Kamala ha stravinto perché viviamo in tempi in cui la stronzata la cretinata la bugia la menzogna la fake news viene tranquillamente perdonata perché viviamo in questa contrapposizione di cui parlavamo ti dico che forse Kamala ha vinto i punti ma non con grandissimo distacco guarda io concordo su tutta la linea ti do due spunti per ampliare il discorso che hai fatto tu allora il primo è perché Kamala ai punti ha vinto ma poi nel big picture comunque traballa perché in realtà come è stato negli ultimi 8-9 mesi il 75% di quello che viene discusso in ambito politico è comunque trampiano sia in positivo che in negativo questo lo si vede ovunque nel dibattito infatti è uscito anche adesso non mi ricordo però era prima delle ferie quindi era fine luglio uscì sul Washington Post un sondaggio subito appena appena Biden ha lasciato per per fare l'endorsement da Kamala vennero intervistate un certo numero non mi ricordo che campione di potenziali elettori democratici e tantissimi di loro hanno detto io io voto contro Trump cioè l'America l'anima dell'America è ormai di Trump anche se Trump dovesse perdere perché ormai è molto chiaro e questo lo è stato chiaro ancora in realtà nella campagna elettorale 2020 cioè nelle elezioni 2020 molto chiaro che la scelta dell'America è con Trump o contro Trump in questo caso qualsiasi stratega di propaganda politica ti dirà che in realtà quindi il vincitore è già di per sé lui purtroppo il secondo spunto che do e questo è molto più delicato bisognerebbe avere delle ore per svilupparlo perché come dicevi viviamo in un'epoca dove ormai le cazzate vengono scusate perché ormai l'opinione politica è puro consumo noi ci approcciamo all'idea politica come ci approcciamo al nuovo iPhone come ci approcciamo al like di Facebook come ci approcciamo a qualsiasi cosa di consumatore l'elettore è diventato un consumatore l'elettore non richiede neanche più l'approfondimento le ragioni perché ormai tanto l'opinione ti dà un'appartenenza e quando è l'appartenenza tu hai già consumato il tuo prodotto punto e stop questo probabilmente è l'ondata culturale più pesantemente negativa dell'approccio che abbiamo visto in tutti gli ambiti relazionali nella politica sta portando alle sue estreme conseguenze questo peraltro lo diceva ancora Platone Platone nella Repubblica a un certo punto parla del demagogo dei demagoghi dicendo guardate che i demagoghi vincono quando quando le persone che li ascoltano smettono di chiedersi se quello che dicono è la verità ed è esattamente quello che succede e sai quella è la cosa più preoccupante è che sono i giornalisti i primi ormai a non chiedere più la verità al punto che ho letto un paio di articoli stamattina in cui veniva fatto notare cioè pensa te in Italia viene fatto notare che i moderatori intervenivano sulle cazze di Trump cioè veniva fatto notare non è normale cioè veniva fatto notare cioè significa che è diventata una normalità questa cosa capito non c'è più il giornalista che si chiede ma quello che vi ha detto è la verità che legame ha con la verità ormai tutta è opinione consumo punto opinione consumo e tra l'altro c'è questa storia che a me comincia veramente a dar fastidio oltre che preoccupare è che la libertà di dire bugie anche in un momento delicato come una campagna elettorale che chiaramente ha sempre delle implicazioni molto forti la libertà di dire bugie viene spacciata e viene difesa come libertà di opinione allora se io dico adesso facciamo una battuta speriamo anche un po' se io dico che gli immigrati mangiano i gatti oppure ricordavo come i vicentini peraltro come i vicentini ovviamente questa battuta è venuta da tantissime persone ma tu hai anche un presidente di regione che aveva detto non tantissimo tempo fa sappiamo tutti abbiamo visto tutti i cinisi mangiare i topi vivi allora partiamo da lì allora se il candidato politico non nell'elezione del condominio del quartiere ma il candidato politico della presidenza degli Stati Uniti che piaccia o non piaccia è comunque solo la più grande democrazia adesso qualcuno dirà non è più la grande democrazia c'è chi vabbè ok una grande democrazia e comunque ha un ruolo guida nel dice una fesseria come una di queste ok l'anchorman il moderatore che lo modera e lo smentisce viene indicato come colui che vuole limitare la libertà di opinione c'è questa confusione fra la libertà di dire cretinate e la libertà di opinione vediamo sui social la formosa polemica eccetera ok tutta la questione delle fake news pericolosissima tra l'altro affrontare la questione delle fake news perché l'errore è dietro l'angolo però siamo arrivati a questo punto tant'è vero che poi io avevo un paio di ore fa tre ore fa una una dichiarazione di Trump che dice mi è stato teso un agguato e ovviamente i fan i cheerleader i ragazzi le ragazze pompon di Trump stanno rilanciando la cosa che l'ABC ha fatto attesa un agguato Trump ora se Trump non avesse detto un paio di fesserie clamorose peraltro ok non ci sarebbe stato quella guata è evidente perché non hanno non hanno bloccato Kamala Kamala ha fatto discorsi abbastanza vari non ha detto fesserie clamorose che possono essere smentite in un attimo citando che so il il sindaco di Springfield non le ha dette per questo non è stata bloccata il dato è che la libertà di dire fesserie anche clamorose anche facilmente smentibili viene venduta come tentativo di porre il freno di mettere la mordacchia di censurare e così via qui tutto il sistema dell'informazione tutto il sistema dell'informazione in particolare in Italia tutto il sistema dell'informazione si sta trincerando dietro questo dietro questo fatto e in Italia lo vediamo adesso mischiamo due cose che però in qualche modo sono legate almeno per le loro dinamiche in Italia assistiamo a Giorgia Meloni che si lamenta di Mediaset perché Mediaset dà voce a chi ha fatto dimettere un proprio ministro allora c'è evidentemente un tentativo della politica che probabilmente ha sempre aspirato a quello di censurare le voci che non piacciono e quando è molto spesso troppo spesso le voci che non piacciono sono quelle che ti dicono no guarda non è vero quello che stai dicendo adesso l'altro giorno c'è stato ho fatto ho scritto un po' c'è stato Matteo Salvini che in un'inaugurazione non ricordo quale fosse non mi ricordo quale fosse l'occasione pubblica ha detto che il ponte sullo stretto porterà 120.000 posti la balla è n volte la realtà ed n volte i calcoli ma è perché fosse stato un giornalista uno uno che avessi colto la macroscopicità della balla non hai capito Costa lui vuol fare come l'ingegner cane vuol mettere le persone dentro i piloni cioè lì sì che ce ne stanno 120.000 e tutte avranno lavoro lavoro di reggere i piloni esatto e noi noi italiani che commentiamo che leggiamo che partecipiamo alla vita pubblica attraverso i social maledetti social che danno parola a tutti maledetti e benedetti nello stesso momento ok siamo abituati al giornalista che sta lì muto e che fa da spare in partner non al giornalista che dice Mr. Trump ma perché perché il giornalista è diventato un venditore di idea al consumo cioè alla fine dei conti è questo guarda che la trasformazione del giornalista in commerciante è sotto gli occhi di tutti nessuno ne parla ma è gravissima tu apri giornali ma anche giornali importanti che ti mettono il titolo con il cliffhanger del titolo ok non so quella persona non pensava che sarebbe successo puntini puntini e poi in realtà la notizia che ti sembra che dica una cosa poi dice tutt'altro il giornalista è diventato un venditore ecco dal mio punto di vista e questo questo io credo che ormai siamo ben oltre il giro di boccia siamo oltre il punto del mio ritorno si ha tutta una serie di elementi che a un certo punto io non so cosa debba accadere per riuscire a fare un dietro fronte e dire aspetta un attimo ma il giornalista non dovrebbe vendere idee cioè non è un venditore di idee il giornalista al massimo lo scrittore l'artista persino il filosofo può essere in un certo caso un venditore costruttore di idee ma il giornalista no cazzo no deve fare il fact checker e invece questa cosa non c'è più è per quello che diventa poi rischioso il discorso sulla fake news perché tu devi ricordare le persone che le idee non sono una merce in vendita ma sono un'entità verificabile che non è semplicemente comprabile a suon di danaro o click però questa cosa non passa più non passa più ed è per dirla proprio con lo slogan allora le opinioni sono libere io posso avere le opinioni più idiote e sono libero di avere non sono libero di raccontare falsità questa è la differenza questa è la differenza ripeto noi siamo abbastanza abituati ad accettare qualunque cosa perché perché l'informazione è un prodotto perché la politica è un prodotto perché fa vendere fa vendere magari non tantissimo come si augurerebbero ma fa vendere perché oggi si vende anche attraverso strumenti che non creano immediatamente monetizzazione il click del giornale click quella monetizzazione ma tu non la stai pagando si punta a quello e quindi e quindi passa la peggiore informazione non esistono più oppure esistono ma sono una minoranza i giornalisti che fanno il lavoro come dovrebbe essere fatto tra l'altro noi ripeto non siamo abituati perché quando osserviamo giornalisti di cultura e di formazione anglosassone che appunto si permettono di far notare al al mister Trump dell'occasione e non soltanto a lui l'errore ci meravigliamo perché da noi non succede e non succederà probabilmente mai o forse per moltissimo tempo e e questo è un problema è un problema per le democrazie perché le democrazie funzionano soltanto se c'è trasparenza e circolazione delle informazioni eh sì e la circolazione delle fake news non è circolazione delle informazioni in nascondere le informazioni sì sì assolutamente no perché poi la circolazione della fake news è di nuovo vendita di un qualcosa che ti fa sentire appartenente ma non è sulla verifica le informazioni hanno sempre bisogno di essere legate a un sistema di verifiche che venga sorretto da persone tra l'altro il fenomeno in scienza politica è studiato uno uno dei dei temi che sono più studiati nella scienza politica è la manipolazione allora poiché io politico sto lottando per raggiungere ripeto usando la violenza non è la violenza quella fisica non necessariamente almeno per raggiungere una posizione del potere per conquistare il potere io avrò l'incentivo a manipolare le informazioni questo ripeto è un fenomeno che viene ampiamente studiato dalla scienza politica ora che cosa può frenare questo fenomeno la corretta il corretto esercizio della professione è il giornalista che è colui che veicola le informazioni è colui che porta l'informazione al pubblico se il giornalista abdica da questo compito ah sono finiti è un bel disastro viene uno dei uno dei pilastri poi del proprio sistema democratico perché appunto non circolano più informazioni verificate ma la qualunque e ovviamente lì lì si basa lì si fonda il fatto che tu guardi l'altro e lo guardi non chiedendoti perché pensa quello che pensa ma lo guardi dicendo è in malafede e lì viene meno proprio il confronto viene meno e lo si vede perfettamente in questo dibattito è palese che ci sono due persone che non proprio credono che l'altro sia un criminale io sono convinto che Trump almeno per autoconvinzione si sia convinto di una serie di cose che dice e così come sono convinto che Kamala Harris è convinta di quello che dice di Trump e lì proprio viene meno tutto questo rappresenta in nuce quello che avviene sui social fra le persone e credo che la radice di questo sia molto 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 più lontana rispetto anche tra l'altro penso che sul rafforzamento delle convinzioni tu ne possa parlare molto più di me è proprio è proprio materia tua scienza umana l'autorafforzamento sì anch'io penso che Trump si sia convinto a furia di ripeterlo a furia di recitare quel copione esatto che dall'altra parte ci sono dei delinquenti un'altra cosa Rick allora dicevo il dibattito è stato è stato deludente nonostante ciò è deludente da entrambe le parti tanto ho già spiegato all'inizio di questa chiacchierata che cosa farei io se fossi cittadino americano l'ho spiegato anche il perché però Trump io credo che sia ancora la ricerca di temi di temi alternativi perché l'uscita di scena di Biden l'ha spiazzato io la parlai in un video peraltro con Carlo Alberto Carnevale Maffè che aveva un'intuizione quasi verificata come corretta e cioè il fatto che avendo impostato tutta una campagna elettorale sui disastri ecco sul nemico Biden e sul suo essere inadeguato per questioni di età e di salute fisica si è rimasto oggi che non c'è più Biden dall'altra parte senza temi Trump è uno che ha continuato a guardare all'altro come dire con la stessa fotografia guardo contro Kamala almeno in certi momenti in alcune risposte nell'ora e mezza di debate ha provato ad individuare partendo dal contro ha provato ad individuare un per per fare cosa è rimasta vaga ma almeno ha cercato di evocare un fare qualcosa per cambiare la situazione tranto no questa parte qui l'ho messa io credo che non ce l'abbia sì sì su questo mi trovo d'accordo su questo sicuramente infatti le accuse di Trump a Kamala sono state lei dice di voler fare queste cose ma perché in questi tre anni e mezzo non le ha fatte quindi era molto era anche molto meno cattivo da un certo punto di vista nei suoi confronti questo è un buon punto sicuramente ascolta per andare a concludere più che altro una riflessione il 18 settembre la corte americana il giudice di New York deciderà sulla eventuale incarcerazione o meno di Trump e ha proprio la scelta cioè lui può scegliere attualmente di rimandare l'eventuale incarcerazione dopo le elezioni oppure attuarla immediatamente secondo te cosa succede e quale sarebbe la cosa migliore no non mi ci metto in questa cosa è troppo troppo scivoloso come terreno io sarò anche insomma abbastanza coraggioso però su queste cose è veramente troppo non vuoi venire in galera con Trump no 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 preferisco no preferisco altre galere no è davvero difficile è davvero difficilissimo Trump ha anche costruito una storia su appunto su quella parte d'America controllata dai democratici che vuole bloccare la sua avanzata attraverso l'uso della giustizia io credo che l'abbia anche favorito cioè la parte più più arrabbiata dell'America lo ha seguito secondo me anche per questo devo dire che i democratici hanno sbagliato qualunque cosa che si potesse sbagliare almeno da l'impeachment dopo Capito Lille è stata una cazzata di livelli spropositabili esatto da un punto di vista comunicativo hanno sbagliato tutto hanno creato hanno pensando di creare il mostro hanno creato il martire e lui di questo ha approfittato perché poi evidentemente sarà pure matto io sono convinto che sia matto però non è stupido però è uno che davanti a un video ci sa stare che sa alzare le folle l'abbiamo visto anche nei peggiori modi è uno che non ha nessuna remora a tornare sulle sue parole cioè ad attribuirsi la responsabilità per esempio di quello che è successo a Capito Lille e poi un attimo dopo quando ha visto la mare parata tirarsi indietro perché appunto ha un pubblico che è rappresentato da un'America incazzata che è disposto a perdonare di qualunque cosa e la società americana che è cambiata e la società americana che una volta si scandalizza stavo per dire una parola che evoca un atto sessuale che una volta l'abbiamo capito tutti e una volta si scandalizzava per gli atti sessuali del presidente e che oggi li riperdo anzi non farebbe un plissé non direbbe nulla è una decadenza anche proprio etica e non c'è nulla da fare da questo punto di vista parla tanto dell'America puritana parte del fatto che l'America puritana perdonava a Jerry Kay le scappatelle però l'America puritana esiste sicuramente ma quell'America puritana oggi non è più forte così determinante come era una volta perché c'è un bene superiore che non è la trasparenza il rispetto dei valori tradizionali c'è un bene superiore in quel tipo di America secondo quel tipo di americani che make America greed again non importa che lo faccia un delinquente ha detto che lo fa e io ci voglio credere disperatamente voglio crederci certo certo ma guarda ti dico ti dico questa cosa l'America puritana è anche un'America calvinista e quando un calvinista lo rendi puritano stai creando una prostituta targhe alterne cioè nel senso non c'è niente da fare ed è sempre stata così sempre stata così e sarà sempre così e l'unica cosa con cui volevo concludere è il fatto che io riconosco a Trump un'altra grande qualità e quest'estate l'ha dimostrata perfettamente quando è di fronte una folla sa prestare orecchio e mai basta e basta con questa direi che l'unico modo è sdrammatizzare e vedere quello che che capiterà Costa grazie mille per la chiacchierata speriamo che per chi ci ascolta ci sia stato qualche spunto interessante magari sotto io in descrizione metto qualche fonte anche delle cose se volete vedere recuperare e niente dai io spero che questa sia anzi sarà la prima di una lunghissima serie di chiacchierate dai grande grazie mille caro grazie a tutti e ci vediamo e saluto a tutto il pubblico ciao ciao